La carta è abbastanza, però secondo me è qualche mostitante di la macchina, che c'è la bocca a piedi. E la carta non riesce a ammazzarla, perché se lo hai non riesce a ammazzarla. Il cane? No, il cane. Il cane è abbastanza. Il cane è abbastanza. Però io non so mica come è impeccata proprio sulla testa. Un battone lungo, una lontana. La zappava. Dai, come una scuola. Troppo delicata. Che cosa adesso è il filmino? Lo mettete su Youtube? E' molto spazio che sotto c'è spazio. Eh, trova lasciarlo libero, vediamo se ci risolverò. La scuola della destra. Vado così? Sì. Sì.